Oroscopo del giorno, lunedì 3 giugno 2019 Ariete Amore, oggi il rapporto con il partner sarà piuttosto teso e dovrete cercare le parole giuste per addolcirlo. La luna opposta renderà tutto più difficile, ma farete di tutto per migliorare l'intesa. Per i single si preannuncia una giornata molto romantica. Lavoro Potrebbero esserci problemi nel lavoro, ma farete buon viso a cattivo gioco e cercherete di superare ogni difficoltà. Toro Amore Giornata piena di imprevisti, soprattutto al mattino, ma per fortuna nel pomeriggio la situazione migliorerà. Alcune situazioni infatti si risolveranno. In arrivo, belle novità per chi ha avuto delle delusioni in amore. Chi è solo potrà sperare in ottimi incontri. Lavoro Sul lavoro dovrete cercare di essere più dinamici, anche se la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento. Genelli Amore La vostra storia d'amore oggi potrebbe essere messa in discussione. Alcuni dubbi vi assaliranno e sarete alla ricerca di conferme che ancora non arrivano. I single invece dovranno cercare di essere più aperti e lasciarsi andare alle nuove emozioni. Lavoro Negli ultimi tempi siete stati molto impegnati sul lavoro e adesso finalmente state vedendo i primi risultati. Cancro Amore Giornata importante per i sentimenti. Oggi potrebbe essere necessario fare scelte decisive per il vostro futuro sentimentale. Riflettete prima di decidere e confidate al partner i vostri sentimenti. Sono in arrivo belle sorprese per i cuori solitari. Lavoro Alcuni problemi al lavoro porteranno un po' di malumore. Cercate di non litigare con chi vi sta attorno. Leone Amore Durante questa giornata vi sentirete carichi di energia e riuscirete ad ottenere molti successi anche sul fronte sentimentale. Ci saranno eventi positivi che porteranno il buon umore e questo aiuterà a migliorare l'intesa di coppia. Per i single incontri fortunati per l'amore. Lavoro Non fatevi sfuggire alcune importanti occasioni che potrebbero cambiare la vostra situazione lavorativa. Vergine Amore Oggi qualche discussione con il partner a causa di fattori esterni sarà inevitabile. Cercate di mantenere la calma e spiegate alla vostra dolce metà come stanno veramente le cose. La giornata sarà molto intensa anche per i single, ma anche piena di soddisfazioni. Lavoro Oggi porterete a termine molti impegni, alcuni dei quali decisamente importanti, che vi metteranno al centro dell'attenzione. Bilancia Amore La vostra vita sentimentale oggi potrebbe prendere una piega diversa da come avevate progettato. Tuttavia potrebbero esserci buoni speranze per recuperare un rapporto in crisi. I single potranno sfruttare il loro fascino per fare nuove conoscenze. Lavoro Gli affari oggi potrebbero subire un leggero calo e questo vi spingerà a darvi da fare per ottenere il meglio. Scorpione Amore Ottima giornata da dedicare interamente alla vostra anima gemella. I momenti trascorsi insieme gioveranno alla vostra relazione di coppia. I cuori solitari faranno molte conquiste e alcuni potranno anche vivere avventure eccitanti. Lavoro Anche se ci sarà qualche ostacolo sul lavoro potrete superarlo grazie all'aspetto favorevole dei pianeti. Sagittario Amore Cercate di non perdere la calma per questioni di poco conto. Cambiate atteggiamento e sfruttate il buon umore se volete trascorrere momenti di dolcezza con la persona amata. I single avranno buoni motivi per rafforzare un'intesa in cui credono sempre più. Lavoro Avrete i pianeti a favore e questo vi permetterà di portare a termine senza troppa fatica i vostri progetti lavorativi. Capricorno Amore La sfera sentimentale potrebbe non essere al massimo e anche le stelle non saranno dalla vostra parte. Andrà meglio in serata quando avrete modo di chiarire con la persona amata. Giornata rilassante invece per i single che potranno svagarsi e godere della loro libertà. Lavoro Avete deciso di impegnarvi al massimo per realizzare i vostri progetti e otterrete ciò che desiderate. Acquario Amore 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 se il video ti è piaciuto metti mi piace registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti Grazie a tutti